vorrei la macchina nuova ma devo isolare casa con il cappotto termico non posso spendere troppo dovrò rinunciare a una delle due cose aspetta è meglio isolare con il sufflaggio per risparmiare a parità di benefici ora finalmente ho la casa isolata e mi sono potuto permettere la macchina che desideravo se vuoi risparmiare è meglio isolare